Vuoi installare Linux ma non sei molto esperto? Questo è un video introduttivo. Alla fine conoscerai meglio il tuo PC e le impostazioni da modificare nel suo programma di base BIOS. Saprai preparare il computer anche per installarci Windows e Linux insieme. Poi come scaricare e verificare il file di installazione, come preparare una chiavetta USB e come avviarla prima di procedere. Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Provare Linux richiede iniziativa. Nella maggior parte dei casi implica il desiderio di usare il computer con software differente da quello con cui è stato venduto. Allora troverai alcuni ostacoli iniziali da superare. Non tanto per l'installazione che è semplicissima. Se non sei esperto di informatica, perché per fortuna hai avuto spesso di meglio da fare e vuoi installare Linux, devi conoscere alcuni aspetti legati al firmware BIOS o UEFI, il programma di base di ogni computer che controlla i componenti prima dell'avvio del sistema operativo. Devi verificare e spesso modificare alcune impostazioni, specie per far convivere Linux con un altro sistema operativo nello stesso PC. Linux può infatti anche essere affiancato a Windows o macOS. In questo caso si parla di dual boot, doppio avvio. Linux, in fase di installazione, trova il sistema operativo già presente e può creare un menu da cui scegliere quale usare ad ogni avvio. Si devono modificare anche un paio di impostazioni all'interno di Windows. Perché è egoista, crede che il computer sia suo e non tuo e lo vorrebbe tutto per sé. È infatti più facile installare Linux come unico sistema operativo e lasciare che cancelli tutto sfruttando l'intero hard disk. Se hai un computer in cui provare Linux installandoci solo quello è meglio. Ma le difficoltà per un dual boot sono comunque superabili. Se ti accorgi che il compito va oltre le tue possibilità, non disperare. I volontari di un Linux user group dalle tue parti possono aiutarti gratuitamente a superare i primi ostacoli. Successivamente resterai sorpreso, come tanti prima di te, della semplicità, delle tante cose che puoi fare con Linux e i suoi programmi e della maggiore velocità del tuo computer. Se Windows è già installato nel tuo computer, per installarci Linux insieme devi accertare il tipo di firmware e lo stile di partizionamento, cioè il tipo di programma di base del PC ed il modo di organizzare le informazioni sull'hard disk adottati da Windows. Le possibilità sono solo due, ma è importante conoscerle perché Linux e Windows devono usare le medesime. Sono utili anche per preparare adeguatamente la chiavetta USB con cui installare Linux. Fino a Windows 7 erano usati BIOS e stile di partizionamento MBR, Master Boot Record. Da Windows 8 in poi, con il progressivo abbandono della modalità firmware BIOS a favore di quella UEFI, lo stile di partizionamento adottato è GPT . Windows 11, per impostazione predefinita, utilizza solo la modalità UEFI con stile GPT. Windows 10 nella maggior parte dei casi è installato con UEFI e GPT, però se è stato aggiornato da versioni precedenti si può anche trovarlo in modalità BIOS con MBR. Infatti anche computer recenti supportano ancora BIOS e MBR in una modalità indicata come legacy tradizionale tramite il cosiddetto modulo di supporto compatibilità . Per accertare la tua situazione in Windows 10 apri il menu, digita Parti e premi Invio per aprire Crea e Formatta le partizioni del disco rigido. Le partizioni sono parti di hard disk usate come fossero dischi autonomi. Se tra quelle del disco in cui risiede Windows è presente una partizione di sistema UEFI, allora è attiva la modalità UEFI con GPT. Come accennato, l'assenza di una partizione UEFI non significa che il computer non supporti UEFI. In generale sono basati su UEFI i computer in commercio dal 2008-2010 a seconda della marca. Se hai Windows 11, come detto, non ci sono dubbi. Per verificare con Windows 10, nella schermata di accesso, riavvia il sistema tenendo premuto il tasto maiuscolo o SHIFT. Il computer riparte in modalità di ripristino. Scegli risoluzione dei problemi, poi opzioni avanzate e troverai impostazioni firmware UEFI in caso positivo. Torna indietro e scegli Continua o spegni il PC quando hai finito. Nel frattempo hai già imparato un modo per accedere alle impostazioni del firmware. Se il tuo computer supporta UEFI ma Windows 10 è installato con legacy BIOS e MBR, chiunque consiglierebbe di passare alla modalità UEFI e a GPT. Migliori prestazioni e partizioni capienti a volontà, grazie a tecnologie recenti invece che degli anni 70 del secolo scorso. Prima di qualunque operazione consiglio sempre un backup dei tuoi documenti. Puoi usare lo strumento MBR 2GPT di Windows per convertire lo stile in GPT senza dover reinstallare il sistema operativo. Ci sono informazioni dettagliate nelle pagine di supporto Microsoft in italiano. Altrimenti AOMEI Partition Assistant, utilità gratuita apprezzata, pare semplificare il lavoro. Al termine della conversione modifichi le impostazioni del firmware da legacy BIOS a UEFI e Windows si riavvia correttamente. Io però modificherei subito le impostazioni nel firmware reinstallando da capo a Windows con GPT. Se il tuo computer supporta solo MBR con la modalità BIOS tradizionale, allora installa Linux da solo cancellando tutto il disco. Vista l'età potrebbe tornarti utile il mio video Sistemi operativi Linux leggeri e a 32 bit. Ma ora vediamo come accedere al setup del sistema, cioè al BIOS o UEFI anche senza passare dalla modalità di ripristino di Windows. Purtroppo il firmware può essere differente anche tra computer della stessa marca. E' differente è il tasto da premere per potervi accedere nei brevi istanti dopo l'accensione, quelli in cui appare la marca del portatile o della scheda madre prima del caricamento del sistema operativo. Se non hai il manuale del tuo computer portatile o della scheda madre del computer fisso, in cui trovi spesso informazioni, accerta marca e modello e cercalo nelle pagine di supporto del produttore. Altrimenti visita la pagina blog del video e in fondo troverai riferimenti utili. Metto il link nella descrizione del video sotto mostra altro. Nei portatili acer, nei portatili e fissi basati su schede madri Asus, di solito è il tasto F2 o CANC o DEL. Nei fissi acer è ESC. Altre volte può essere F1, F10, F11 o F12 a permettere l'accesso al setup del sistema. Premi ripetutamente uno di questi subito dopo l'accensione. La schermata principale del BIOS può avere un aspetto molto antico e prevedere la navigazione tra schermate, opzioni e modifiche esclusivamente con le frecce di tastiera, invio e altri tasti, spesso specificati nella parte bassa della finestra. Oppure può apparire più o meno moderno e prevedere anche l'utilizzo del mouse oltre alla navigazione tramite tastiera. Nei computer acer alcune opzioni di sicurezza sembrano non essere selezionabili. Per modificarle è richiesta una password di supervisione da digitare ad ogni successivo accesso al BIOS. Accedi al setup premendo ripetutamente F2 all'accensione. Spostati nella scheda Security usando la freccia a destra della tastiera. Scorri con la freccia in basso fino a SET SUPERVISOR PASSWORD e premi INVIO per impostarla e confermarla. Imposta la vuota e non sarà più richiesta. Se la dimentichi fai riferimento al sito biosbug.com. Parallelamente a UEFI è stata introdotta la tecnologia Secure Boot, avvio protetto. Solo software sicuro e certificato da Microsoft può avviare il computer. Legata a Secure Boot è la tecnologia TPM, acronimo di Trusted Platform Module, modulo piattaforma attendibile. Secondo Microsoft, TPM permette di creare e archiviare in modo sicuro le chiavi di criptografia per confermare che il sistema operativo e il firmware nel dispositivo siano ciò che dovrebbero essere e non siano stati manomessi. Windows 11 richiede Secure Boot e la versione 2.0 di TPM attivi, almeno durante l'installazione. Ma ci sono metodi per superare i controlli e installarlo anche in computer tutt'altro che recenti. Windows 10 può essere installato senza problemi anche con Secure Boot e TPM non attivi. Microsoft ha certificato il programma di caricamento di Linux come applicazione attendibile nel 2012. Dall'estate 2022 però impone ai produttori di computer di disattivare, per impostazione predefinita, il meccanismo di avvio di sistemi di terze parti, cioè diversi da Windows, anche se certificati. Quindi, se vuoi installare Linux con Secure Boot attivo in un computer venduto con Windows 11 preinstallato, altro ostacolo. Cerca nelle impostazioni UEFI, sotto sicurezza o boot, una opzione per l'avvio di sistemi certificati di terze parti e abilitala. Talvolta, invece, devi cercare Secure Boot Mode e cambiare da Standard a Custom. Nelle schede madri e portatili Asus lo trovi indicato come OS Type. L'impostazione predefinita è Windows UEFI Mode, quella da impostare Other OS. Ma Secure Boot e TPM possono anche essere disattivati. Raramente video e tutorial consigliano di lasciarli attivi per installare Linux, sia da solo che in Dual Boot. Anche Lenovo suggerisce di disattivare Secure Boot per installare Linux, senza nemmeno riattivarlo a fine installazione. Anche la comunità Linux di Asus suggerisce la disattivazione di Secure Boot. Con Secure Boot e TPM non attivi, se l'installazione di Windows è cifrata con BitLocker, devi digitare la relativa password ad ogni avvio. Potresti incontrare problemi con i controlli antifurbetti basati su TPM di alcuni videogame. Non mi risultano altri particolari problemi. Installare Linux con Secure Boot attivo all'apparenza non complica molto la cosa. La procedura di installazione di molte distribuzioni Linux assiste nel configurare driver non open source per schede grafiche, stampanti o altre periferiche con Secure Boot attivo. Basta creare una password. Al primo riavvio, con il sistema installato in Secure Boot, alcune schermate notificano il tentativo di apportare modifiche e devi confermare di esserne l'autore, indicando la password creata poco prima. Si effettua così il cosiddetto enroll, cioè l'aggiunta nel sistema della tua chiave criptografica di proprietario del PC, indicata come MOC, Machine Owner Key. Nella mia esperienza con Secure Boot attivo i problemi con Linux non finiscono mai. Installazione o aggiornamenti di driver per schede video, schede wifi, stampante o scanner o altre anomalie inspiegabili mi hanno spinto spesso a disattivare Secure Boot, riavviare e i problemi disparivano. Quindi mi allineo al coro di chi suggerisce di sbarazzarsi di Secure Boot fin da subito. Specie se userai poco o nulla Windows che è più vulnerabile ai cosiddetti rootkit che si innestano nelle procedure di avvio, avrai molte più scocciature che benefici di sicurezza a mantenere attivi Secure Boot e TPM. Se la cosa non ti convince, cerca nel web anche in italiano Vulnerabilità Secure Boot e Vulnerabilità TPM. Se il ricorso a queste tecnologie ti rassicura ancora non disattivarle. Altro aspetto da verificare nel firmware è se il sistema operativo Microsoft sfrutta qualche tipo di configurazione RAID per gli hard disk, perché in tal caso difficilmente riuscirai ad installare Linux in uno di essi. La tecnologia RAID, che sta per insieme ridondante di dischi indipendenti, permette a diversi hard disk di operare come un unico spazio di archiviazione, per maggiore protezione dei dati o maggiore velocità. Ma non è così utile nel computer di un utente comune, specie con gli SSD che hanno sostituito i lenti e delicati hard disk meccanici. Per non incontrare problemi, l'interfaccia di controllo di hard disk, che trovi spesso come modo SATA sotto la configurazione di periferiche di storage o PCI, cioè quelle innestate direttamente nella scheda madre, deve essere impostata su AHCI Advanced Host Controller Interface. Oltre a RAID, nei computer con processori Intel, puoi avere altre tecnologie correlate, come RST, Optane e VMD. Anche esse vanno disattivate sempre. A favore di AHCI. Cito ancora il manuale Lenovo per l'installazione di Linux nei ThinkPad. Disattiva Intel RST nel controller SATA e imposta AHCI. Una nota riguarda il firmware di computer Acer su base Intel piuttosto recenti. La gestione del modo SATA è nascosta. Devi premere CTRL S nella schermata principale perché appaia l'opzione VMD controller. Dopo la disattivazione di Intel VMD, il modo SATA diventa visibile e può essere cambiato in AHCI. Attenzione però. Se Windows è già installato con una modalità diversa da AHCI, la modifica provoca l'impossibilità di riavviarlo persino con il suo supporto di ripristino. È l'unica modifica che suggerisco che può fare danni, non al computer in generale, ma all'installazione di Windows. Effettuare un backup, impostare AHCI e reinstallare Windows prima di Linux aggira il problema. Altrimenti, alcune modifiche del registro di sistema di Windows ed altri accorgimenti consentono di convertire l'installazione in AHCI senza perdere nulla. Puoi cercare in rete o convincermi a dedicare più tempo a Linux acquistando il mio ebook Linux Mint installazioni e configurazioni, in cui, tra le altre cose, descrivo le modalità per la conversione. Superati gli ostacoli ad installare qualcosa di diverso da Windows che trovi nel firmware, altri li trovi nel sistema operativo Microsoft. Il primo passo per affiancare a Windows il nuovo vicino impone di disattivare l'avvio rapido. Da Windows 7 in poi, infatti, il sistema non si arresta mai completamente. Viene mantenuto in uno stato di ibernazione e un file blocca l'hard disk impedendo di creare le partizioni per Linux. Non di rado avvio rapido causa problemi anche in Windows. Disattivarlo non renderà il riavvio di Windows tanto più lento del solito. Anche i manuali di computer Acer consigliano di disattivare avvio rapido perché consuma elettricità. Nei portatili può esaurire la batteria anche senza usarlo per giorni. E ciò accresce l'impatto sull'ambiente. Altro che risparmio energetico. Pochi passaggi e l'ostacolo si supera. Apri il menu di Windows, digita Pannello e premi Invio per aprire il pannello di controllo. Digita Alimentazione e apri Cambiare il comportamento dei pulsanti di alimentazione. Clicca su Modifica le impostazioni attualmente non disponibili. Togli il segno di spunta da Attiva avvio rapido. E conferma con Salva cambiamenti. E' necessario eseguire un riavvio perché le modifiche abbiano luogo. Il semplice arresto potrebbe lasciare nell'hard disk il file iberfill.sys responsabile del blocco dell'hard disk. Se Linux non dovesse più avviarsi dopo aggiornamenti a Windows, sappi che qualche volta la ragione è che l'avvio rapido viene riattivato automaticamente. Alcune distribuzioni GNU Linux adatte ai principianti, tra cui Linux Mint, in fase di installazione in dual boot, consentono di ridimensionare in modo semplice ed intuitivo la partizione del disco di Windows per fare posto al nuovo sistema. Ma è opinione diffusa che riservare lo spazio in anticipo dall'interno di Windows sia una scelta più saggia. E consente di saltare questo passaggio quando installi Linux. Apri Gestione disco, che abbiamo già visto, e con il pulsante destro del mouse sull'unità C, seleziona Riduci volume. Prima di tutto verifica di avere spazio libero a sufficienza nell'unità C di Windows, perché è sconsigliabile riservare a Linux meno di 40 GB solo per provarlo. Se intendi usare Linux assiduamente, vuoi installare programmi aggiuntivi, salvare file nelle sue cartelle documenti, indica almeno 100.000 MB nel campo con la quantità di spazio da ridurre e conferma premendo il bottone Riduci. gestione disco evidenzierà in colore nero una partizione non allocata di circa 97 GB. Linux la troverà non formattata e potrà sfruttarla con il suo tipico e performante filesystem ext4. È indispensabile conoscere le specifiche del PC per scegliere una versione di Linux, o meglio distribuzione, adeguata e adatta ad un principiante. Se non le conosci già e hai Windows installato, apri il menu, digita Info e seleziona Informazioni sul PC per vederne un riepilogo. Scegli una distribuzione Linux. Con un computer con processore con due o più core a 64 bit e almeno 4 GB di RAM hai molte scelte. In linea di principio sono così i computer commercializzati con Windows 7 o versioni successive, purché non di fascia minima già all'acquisto. Ne suggerisco alcune in distribuzioni Linux per principianti 2023. Se hai meno di 4 GB di RAM, accerta se puoi ammontarla o potrai fare ben poco. Un negozio di informatica lo verifica rapidamente e la spesa sarebbe comunque minima. Suggerisco distribuzioni più adatte a computer vecchissimi dell'era di Windows XP in sistemi operativi Linux leggeri e a 32 bit. Ma ripeto, non aspettarti molto da un PC così, perché nel frattempo anche solo l'esperienza di navigazione internet è progredita di 20 anni. La mia scelta ricade su Linux Mint e in particolare sulla sua edizione Cinnamon. È il mio unico sistema operativo da anni. Lo conosco bene, gli ho dedicato la maggior parte delle informazioni qui nel canale YouTube e nel blog. Ma sono in tanti, anche nella stampa internazionale specializzata, a suggerire Linux Mint come sistema operativo perfetto per un principiante di Linux. Se hai 3 GB di RAM, scegli l'edizione XFCE di Linux Mint. Dai un'occhiata a differenze tra le edizioni di Linux Mint se vuoi approfondire. Linux Mint, come molte altre distribuzioni GNU Linux, è distribuito tramite un file ISO, una specie di clone del disco di installazione. Nella pagina web ufficiale per scaricare Linux Mint vengono suggerite le edizioni della versione più recente, ed è quella che ti consiglio anche io. Scelta l'edizione, scorri fino a trovare un cosiddetto mirror ufficiale più vicino a te. Mi raccomando di scaricare il file ISO di qualunque distribuzione Linux solo partendo dal sito ufficiale. E una volta scaricato, raccomando anche di verificare l'integrità del file per evitare che ci siano stati problemi durante lo scaricamento. A tal fine viene sempre fornita una sequenza di caratteri chiamata hash o somma, una specie di codice a barre unico per quel file. Verificare che la somma indicata nel sito sia la stessa nel file che hai scaricato garantisce che il file sia intatto e autentico. Vediamo come fare. Anzitutto, nel caso di Linux Mint, clicca sul pulsante sh256sum.txt per vedere la somma per il file scaricato. Apri il menu di Windows, digita Power e avvia Windows PowerShell. Immaginando che tu abbia salvato nella cartella Downloads il file ISO di una edizione di Linux Mint, digita questo comando. E premi il tasto Tab sulla tastiera perché il nome del file ISO sia completato automaticamente. Ovviamente sostituisci tuo nome con il nome effettivo della tua cartella utente prima di premere invio. In meno di un minuto Windows ti mostra il risultato della verifica. Se le somme non corrispondono, devi scaricare nuovamente il file e verificarlo di nuovo. Scaricato e verificato, il file ISO va trasferito in una chiavetta USB. Consiglio il ricorso a quelle USB 3.0 o superiori se hai porte USB di questo tipo nel computer. Sono quelle con una linguetta azzurra all'interno e sono 10 volte più veloci di quelle nere. Però non basta copiare il file per rendere il supporto avviabile. Serve un apposito programma. Io consiglio Rufus per farlo con Windows. Un minuscolo programma gratuito che non richiede installazione. Inserisci la chiavetta USB ed avvia Rufus. Verifica che il dispositivo unità sia quello desiderato e seleziona il percorso della immagine ISO. Seleziona lo schema partizione GPT o MBR a seconda del PC in cui vuoi installare Linux. L'elenco sistema destinazione si adatta automaticamente. Avvia, conferma e attendi il completamento. Per installare Linux dovrai avviare il computer dalla chiavetta USB invece che dall'hard disk. Il firmware dei computer più recenti prevede che nei primi istanti dalla pressione del pulsante di alimentazione, con la chiavetta di installazione inserita, si acceda ad un menu di boot per poterla avviare. In computer più vecchi il firmware prevede una sequenza o priorità nella sezione boot. In tal caso conviene mettere l'avvio da USB prima di tutti gli altri. Al riavvio, dopo il salvataggio, il computer cerca informazioni di avvio prima dai supporti USB e se non le trova dall'hard disk. Nei computer Acer con firmware Inside H20 il menu di boot non è attivo. Devi accedere alla configurazione ed abilitarlo. Nella schermata Main scorri con la freccia in basso sulla tastiera fino a F12 boot menu. Premi invio e ancora con la freccia evidenzia Enabled e premi invio. Premi F10 per salvare l'impostazione e riavviare il PC. Ecco quindi uno specchietto sui tasti più comuni da premere all'accensione del PC per accedere al menu di boot in base alla marca. All'avvio del menu di boot troverai l'avvio di Windows se è installato e la chiavetta USB. E potrai selezionarla con le frecce e talvolta con il mouse per avviare il computer dal supporto esterno. Finalmente la magia di Linux ti presenta un menu iniziale. Premi subito invio e in meno di due minuti il sistema operativo completo potrà essere già esplorato. Temporaneamente in inglese, ma con l'installazione scegli la lingua che desideri. E puoi, anzi devi assolutamente provare che tutto funzioni prima di affrontare l'installazione. Ne ho parlato in verifica compatibilità Linux prima di installare. Se incontri problemi in questa fase, rivolgiti ad un Linux user group come ho suggerito all'inizio. Male che vada, se qualche periferica non è compatibile con Linux e sappi che la colpa è di chi la costruisce, potrai procurarti una soluzione alternativa senza privarti di alcuna funzionalità. Giunto alla fine di questo video hai preso confidenza con nuovi concetti e tecnologie, indispensabili per installare nel tuo computer un sistema operativo diverso da quello con cui ti è stato venduto. Ma soprattutto hai scoperto come superare ostacoli che trovi per ragioni che ufficialmente sono di sicurezza. Io ti ammiro, dico davvero. Se il tuo desiderio di provare Linux ti ha spinto fino a qui e a fare da solo, perché di rado trovi centri assistenza che ne sanno abbastanza, ti meriti Linux tantissimo. Affrontare l'installazione sarà quasi una passeggiata in confronto. Se poi scegli Linux Mint qui nel canale YouTube e nel blog, trovi tanti contenuti che possono aiutare le tue scoperte. Altrimenti permettimi di suggerirti di dare un'occhiata anche solo all'indice dei contenuti del mio ebook Linux Mint Manuale d'Uso, perché ci sono oltre 270 pagine di contenuti che non trovi altrove e possono incoraggiarmi ad incrementare i miei sforzi legati alla diffusione della conoscenza di un mondo di software libero senza costrizioni, senza controllo su ciò che fai con il tuo computer e senza che tu sia obbligato a cambiarlo se ancora funziona. Ti invito a visitare la pagina blog con il testo di questo video, perché contiene a fondo pagina tantissimi link di approfondimento ed alcuni specifici sulla gestione del BIOS in computer di varie marche. Grazie per il tuo tempo e a presto!